Quante scosse sono state registrate da inizio 2017 a Pieve Santo Stefano? Sono 108, la manisura massima è 2.7 che è stata registrata domenica nel tato pomeriggio. Sono tutte lievi scosse al di sotto dei tre gradi di magnitudo quelle registrate in Valtiberina nell'ultimo mese. La faglia interessata è quella alto-tiberina che si trova sotto Montedoglio. La faglia alto-tiberina è il bordo che divide la parte a destra che si muove verso i Balcani e la parte a ovest che si muove meno velocemente in questa direzione. E quindi il distacco da questa parte è più o meno 2 mm ogni anno. Quello che preoccupa è la vicinanza di queste scosse alla diga di Montedoglio. C'è da preoccuparsi? Per quanto riguarda il lago di Montedoglio, se mi ricordo bene, dagli anni 90 è stato riempito. E quindi è una diga abbastanza larga, non super profonda, mi sa 50 e rotti metri. Chiaramente mi auguro che sia fatto con dei criteri antisismici, ma nel passato non c'è stata mai nessuna diga nel mondo che è collata con i terremoti, nemmeno con i terremoti più forti. La terra comunque continua a tremare, a Pieve Santo Stefano. Ora è un po' scemata, ma oggi abbiamo due scossettine registrate, ma può anche riprendere nei prossimi giorni, come può riprendere tra un mese. Sono fenomeni che in quella zona non sono una grande sorpresa in quanto sotto c'è una faglia che attiva.